Bravo Filippo! Bravo! Uno! Due! Tre! E allora non è valido! Difesore non può entrare nella casetta! Uno! Due! Tre! Quattro! Quattro! No! Cinque! Sei! No! Abbiamo vinto! Sei! 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 Bravo! Fermala! Veloce! Non aspetti! Veloce! 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 Quando arrivato 5! Quando arrivato 5 me lo dite, eh! Io sono arrivato 5! Ok... Puoi? Ecco qui! Bravo Filippo! Bravo Filippo! Bravo! Bravo Filippo! Bravo! 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 Ok, cinque, quattro, tre, due, tutti. Non si calcia. Scegli un giocatore. L'abbiamo messo in faccia, oh, non ci tiriamo le spalle. Bravissimo, bravo. Bravissimo, bravo.